Allora ragazzi, in sti giorni io pensavo di raccontare e spiegare un po' la storia di alcuni grafici e design che ho studiato dall'anno scorso in poi, anche perché io oggi ho presentato e tra l'altro poi ho ricevuto un voto per psicologia della comunicazione che è stato 28, allora mi piacerebbe spiegare un po' la storia di alcuni grafici e design che io ho fatto, come ho fatto per gli storici dell'arte e pensavo di fare anche per i grafici e per gli design famosi, ecco. Io ho fatto questa presentazione che è durata non tantissimo perché non era tanto per la spiegazione dei grafici ma è più per la presentazione di un padiglione che hanno fatto i fratelli Castiglioni, ma ne parlerò in un futuro video, i fratelli Castiglioni e infatti io ho, questa praticamente è la presentazione che io ho fatto oggi in psicologia della comunicazione e ho preso 28, quindi mi è venuto in mente di fare, di raccontare la storia dei, oltre a quelli dei storici dell'arte che ho fatto nei video precedenti, anche della storia dei grafici e dei designer appunto. Ne farò alcuni, farò soprattutto quelli che li reputo quelli più particolari, quelli più interessanti. Questo è tutto, bene ragazzi, ci vediamo ai prossimi video. Intanto io sto procedendo per la realizzazione dello stop motion, ho contato che ho fatto più di 1400 fotografie. Ci vediamo alla prossima.